Sulla brutta vicenda di Opito Mamertina con l'inchino della processione religiosa di fronte alla casa delle boss locale Mazzagatti e voluto intervenire lo scrittore nonché ex assessore alla cultura della provincia di Reggio Calabria Santo Gioffre il quale ai nostri microfoni ha affermato di avere condiviso la decisione del vescovo di Opito Palmi Francesco Milito di sospendere a tempo indeterminato tutte le processioni nella diocesi. L'ormai purtroppo famoso inchino di fronte alla casa delle boss Mazzagatti. Allora qual è il suo pensiero in merito? Mi diceva, a microfoni spenti, ha condiviso la decisione del vescovo Milito, del vescovo di Opito Palmi di sospendere qualunque processione nella diocesi a tempo indeterminato. Sì, a tempo indeterminato. Speriamo che questa decisione, logicamente che è frutto di un evento che ha portato la provincia di Reggio Calabria sullo scenario mondiale perché quell'avvenimento è stato riportato in tutti i telegiornali o in tutti i massi media mondiali sia un fatto momentaneo che ci porta ad una pausa di riflessione. Certamente questo aspetto delle processioni o questo fatto degli inchini o questo fatto durante le processioni di manifestare nelle case o nei luoghi o in situazioni, questo modo di dire che in quei comuni, d'altronde Alfano in una dispiacevole enunciazione disse che nella provincia di Reggio Calabria in fondo ogni paese ha una famiglia dominante dal punto di vista mafioso e che quindi ci riporta alla Calabria medievale quando avevamo i signori. Quindi questo fatto è un fatto che ci degrada dal punto di vista culturale e bene ha fatto il Vesco una volta che per certi aspetti è stato sotto attacco mediatico soprattutto la diogesi perché altri provvedimenti non mi pare che se ne siano presi non poteva fare diversamente se non quello di un attimo fermare e dire riflettiamo. Riflettiamo su quello che è una cultura profonda della provincia di Reggio Calabria quando le processioni che cosa sono alla fine sono è un momento di riconoscimento di appartenenza trasformati però come erano trasformati effettivamente allora forse va bene riflettere e riflettere per capire bene anche se noi vogliamo uscire da uno stato di sudditanza e di sottomissione perché è indubbio che questo fatto esiste chi lo nega perché vedo addirittura che queste cose vengono negate non è vero noi che viviamo in quei posti sappiamo come venivano gestite le processioni come erano i comitati festa come andavano a finire gli introiti dei soldi che si davano per i comitati festa. Ecco su questo punto forse va fatto un momento di chiarezza e non abbiamo bisogno dei grandi antropologi di chi che vengono da lontano e non capiscono nulla perché non sanno nulla perché non conoscono non conoscono e non c'è una grande linea ma qui si aveva una realtà tutta a parte allora la procura è intervenuta il vescovo che non va lasciato solo io sono un laico ci sono i grandi santuari nella provincia di Reggio Calabria il più grande di tutti quello che fu il più grande di tutti fu quello della Madonna Nera di Seminara che quest'anno non sarà portato in processione dopo 510 anni però ecco noi dobbiamo fermarci e riflettere che sia un momento di preghiera di discussione e soprattutto tra di noi. Grazie a tutti.